L'ospedale San Carlo di Potenza ha attivato un numero verde 800-006-616 per garantire ai cittadini tutte le informazioni sui servizi erogati e sulle modalità di accesso alla struttura sanitaria di Potenza. Il servizio è stato denominato Parla con il San Carlo e sarà accessibile dal 13 agosto prossimo, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14. Con questa iniziativa, ha spiegato il dirigente Giampiero Maruggi, l'azienda ha inteso attivare un canale diretto tra il cittadino e l'ospedale.